Scuole, no della regione, documentazione risultata incompleta. A chiedere all'assessorato regionale dell'istruzione e alla formazione professionale i chiarimenti sulla decisione di bocciare alcuni interventi in città è stato proprio il comitato dei cittadini che da tempo ormai si batte per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle scuole cittadine. Secondo quanto si legge nella nota dell'assessorato regionale il problema principale è stata l'incompletenza della documentazione inviata dall'amministrazione in quanto mancante della prevista approvazione amministrativa dei progetti specificatamente prevista dal bando. A mancare di fatto è stato il via libera ai progetti da parte del Consiglio Comunale e a nulla, secondo quanto spiegano dall'assessorato, sono servite sia la tempestività comunicazione agli uffici comunali di Siracusa sia la possibilità concessa di ricorrere al soccorso istruttorio. La procedura, secondo quanto indicato nel bando, è risultata per questa incompleta con la conseguente esclusione dei progetti dai relativi finanziamenti almeno per l'anno in corso. Sotto questo punto di vista non tutto sembra ancora perso perché dall'assessorato lasciano aperto lo spiraglio per il finanziamento dei progetti nel 2020. Le preoccupazioni da parte del Comitato Scuole Sicure non si esauriscono però solo con i progetti che al momento risultano non finanziati. Forti sono le perplessità sull'assetto degli istituti scolastici in vista del prossimo anno, soprattutto per le forti criticità strutturali presenti nella maggior parte degli edifici scolastici del territorio. E' proprio per questo motivo che il Comitato ha inviato una nota al profetto Luigi Pizzi per chiedere l'istituzione di un tavolo tecnico dedicato all'edilizia scolastica. La preoccupazione, si legge nella nota di Troia, riguarda in particolare i limiti massimi stabiliti dalla legge per la popolazione scolastica negli istituti. Non vorremmo che in assenza di spazio per reperire aule si utilizzassero impropriamente locali non destinati a tale funzione. Vigileremo affinché la programmazione diventi un efficace e lungimirante strumento di prevenzione.